ragazzi ragazzi buongiorno futuro immediato andiamo a vedere cosa succederà semplice lavorerò con questi due marci poi voglio anche vedere energie magari consiglia cosa deve stare attenta insomma saranno come consigli per il futuro che sta arrivando proprio prossimamente variante numero uno 78 porte e qua tarocchi di tarocchi le norme due sistemi in uno sceletti una delle varianti e io vado ne doveva succedere variante numero uno adesso puoi pensare a qualcosa che per te in questo momento è importante puoi pronunciare il tuo nome la tua data di nascita se vuoi la stella sta scappando la stella sicuramente tu hai una speranza e qua prossimamente ci sarà esito positivo della tua speranza o ti avvicini a un tuo sogno oppure tu vedrai che eventi tutto ciò che intorno a te come si dice si mette in sintonia con ciò che tu desideri ecco guardate il sole sole una bella carta la felicità vediamo che cosa ti porterà questa felicità regina coppe tu proprio nel cuore sarai molto felice quando avviene voglia di ballare di cantare tanti emozioni positivi cosa ti porterà a ciò cosa succederà che tu ecco eremita cavaliere di coppe non so sembra che c'è stato un momento in cui tu ti sentivi un po apatica magari un po sola e qui ci arriva arriverà un cavaliere di coppe una persona che ti porterà queste emozioni positivi qui può essere un incontro un incontro con la persona che è attratta emotivamente da te un cavaliere un cavaliere di coppe apriamo cavaliere di coppe si sei di spade potrebbe essere una persona a distanza o una persona con quale tu scriverai messaggi su computer insomma sul telefono e sarai molto contenta questa persona sembra che c'è c'è tipo un attesa attesa di incontro volete vedersi e vi scrivete c'è una cosa così altro uno di bastone uno di coppe fa anche guardati qua parlano sempre di una comunicazione come un inizio un inizio con una persona che ti piace che ti manda messaggi tu aspetti questi messaggi è tutto uno quindi qualcosa di emozionante che inizia inizia la morte sei di denaro e tre di spade c'è una situazione per te dolorosa può essere che tu aspettavi aspetti che qualcuno ti paga ti porta un debito o ti dà qualcosa che non dava ecco ti darà quindi parliamo di sei di denaro qualcuno ti ti darà anche se tu non aspetti ora posso provare perché io vedo che arriva questa persona e ti dà quello che tu anche hai dimenticato oppure non aspettavi più che ti darà di cosa si tratta dice di bastone qualcosa che cinque di spade qualcuno non era comportato bene nei tuoi confronti è una situazione dove tu dici ma non è giusto perché mi ha trattato così tu forse hai da questa persona ti sia anche allontanato la morte perché è parecchio tempo passata cioè messo cuore in pace che non ti porterà mai più non ti darà mai più e qui adatto ora non mi fanno vedere cosa è questo un regalo una cifra di soldi oppure ti ha dato che ha restituito comunque qualcosa che te che ti pesava può essere tempo ti ha restituito qualcosa ti pesava e ti hanno dato indietro una cosa così non lo so cosa è imperatore luna siete questa una persona o qualcos'altro ci saranno un po di dubbi preoccupazione e paure legati all'imperatore può essere una persona come può essere una un qualcosa dove tu sei il capo non so una tua azienda oppure ordini nella tua vita una disciplina l'imperatore è quando tu devi controllare qualcosa e qua sembra che la situazione sfugge dalle tue mani tu non puoi controllare e come non puoi controllare ti fa preoccupare c'è tanta ansia vedo tante preoccupazioni inutili queste preoccupazioni perché succederà qualcosa a un imprevisto che ti sbilancia un po qualcosa ti lascerà a bocca aperto che cosa sarà questa cosa il diavolo che ti farà perdere un po di equilibrio qui veramente se è un uomo può essere un uomo un uomo che si ha comportato non tanto bene nei tuoi confronti ti ha fatto perdere equilibrio e tu ti stai preoccupando per quello altrimenti se questo imperatore non è un uomo parliamo di una cosa tua dove tu devi controllare dove tu sei imperatore capo e allora succede qualcosa che ti perde un po equilibrio e tu ti preoccupi non c'è armonia però si risolve si risolve anche se io ti vedo con pensieri molto pessimistici ti aiuterà a risolvere questa situazione la stessa persona che ti farà questo questa sfortuna la stessa lo stesso imperatore una persona ti aiuterà a risolvere comunque alla fine però tu non so perdi la stima perdi fiducia se non parliamo di persona tu comunque riuscirai a risolvere però rimarrà comunque un po di ansia ti senti un po vittima cosa fare per evitare questa brutta cosa un consiglio per evitare l'erafante devi imparare da quello che allora qualcosa tu non hai imparato ripeti lo stesso sbaglio per non succedere quello che è successo o succederà nel senso devi imparare da lezioni imparare una lezione imparare dagli sbagli che tu hai già fatto prima deve essere più saggia più matura deve cercare di capire il perché perché succede dove sto sbagliando io qui parlano di te del tuo sbaglio perché tu permetti permette a qualcuno farti del male permette a qualcuno trattarti come non imperatrice qualcuno non ti dà abbastanza rispetto e tu permette a questa persona di non rispettarti questo ok andiamo avanti chiediamo energia tua in generale prossimamente sete di coppe diavolo sarai sarai fissata tanto su una cosa proprio fissata ecco qua non ho chiuso fissata che cosa su cosa sarai così tanto fissata imperatrice che allora stai dando troppo importanza all'imperatrice può essere una donna può essere la mamma tua o comunque una donna che per te molto importante stai dando troppo importanza lei pensi troppo o comunque stai dando troppo importanza per una persona che per te importante tu dai troppo questa persona pensi troppo questa persona questa persona venute con il diavolo quindi ti mangia energia ti stanca ti senti un po messa da parte stanca messa da parte ma perché pensi così tanto perché al giudizio perché qualcosa è successo ma qualcosa è successo positivo e questo è strano può essere che questa imperatrice è successo qualcosa che ti aspetta da parecchio tempo però poi tu ti sei bloccata e ossessivamente pensi a qualcosa un esito finale imperatrice imperatrice può parlare anche di una corona voi come dire tu sei troppo severa nei tuoi confronti prendi troppo come dire chiedi da te stessa troppo come ci sono le donne tra quali sono stata una volta anch'io dove mamma mia devono essere unghie perfetti anche nero vedo sono state in giardino di non prendere pomodori allora quando pensi oddio qui c'è un pelino che bisogna togliere qua c'è un unghie che è imperfetta non va bene oddio sono ingrassata devo perdere questo chilo magari stai prendendo un po troppo stai aspettando da te un po troppo e questa cosa ti fa spricare un sacco di energie ti fa stancare quindi un unico consiglio più menefreghismo non si può chiedere tanto da te da se stessi è pericoloso perché poi quando non capisci la vita ti da qualche brutta lezione non ti dico che ti da ma di solito per farti capire cose veramente importante dopo tu capisci no 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 ma per me è importante essere sana con buona salute e non importa che la unghia rotta è brutta questa mia unghia va bene andiamo avanti questa è la tua energia parliamo di cuore situazioni sentimentale la tua energia vedete giudizio universale qualcosa successo qualcosa succede che rimane da per tanto tempo se tu veramente ce l'hai questa cosa bella incontri questa bella persona che ti fa battere il cuore io vedo che queste persone rimane per parecchio tempo per parecchio tempo ci saranno diverse possibilità di evolvere insieme a queste persone insieme a queste persone in una direzione dove ti senti anche ti fa ti da motivazione ti senti bella ti senti energica regina di bastone una donna che ha tante energie per fare tante cose perché si sente bene tanti prospettivi possibilità di allora io parlando di amore ti vedo che succede qualcosa che ti porterà una relazione per parecchi anni per parecchio tempo quindi se capita questa persona magari c'è già oppure una nuova persona se succede prendi questa persona mira perché qui ci sono diverse possibilità diversi chance di diversi futuri diversi futuri con questa persona possono essere però comunque questa persona rimane per parecchio tempo fatemi vedere diversi futuri cosa potrebbe essere questi diversi futuri imperatori imperatore irafante luna qui per qualcuno una persona cambia artigianito una persona che c'è già nella tua vita ma cambia artigianito capisce qualcosa attraverso il dolore lui sta male e capisce di nuovo mi è venuta la stessa energia secondo me qui c'è una persona che per te non so qualcosa di preoccupante per te e questa persona sembra che vuole capire e cambiare solo che sembra che non capisce molto bene a te non vi capite in qualcosa ok parlando di lavoro come va tutto bene benissimo lavoro la stella di nuovo venuto qui c'è possibilità di crescita di la stella è quando quello che tu speri sia vero parlando di lavoro quando tu la tua missione o il tuo piano stai portando avanti quando tu sei sulla strada giusto giusta la stella può parlare anche di una fama sì fante di coppia proprio parlando di lavoro tu sarai molto contenta sì qualcuno verrà bussa a buttarti la porta a bussare nella tua porta qualcuno che avrà bisogno di te parlando di lavoro e tu starai a pensare se aiutare a no potrebbe essere anche un uomo sì va bene per qualcuno sul lavoro sarà nuovo uomo nuovo uomo o un uomo interessato a te qualcosa lui vuole da te parlando di lavoro tu gli puoi dare qualcosa un consiglio un aiuto dipende che lavoro fai ok cosa evitare dove stare attenta attenzione a non mangiare troppo non spendere troppo soldi per per le cene per mangiare ripeto per quello che non va bene spendere troppi soldi per cibo no o per cene o per bella vita no non esagerare e non esagerare nutrire il tuo corpo ripeto mangiare non mangiare troppo non bere troppo perché poi ti senti in colpa ti sentirai in colpa più movimento più camminata qualcuno rischia di ingressare sempre ancora da mangi dopo si senti in colpa e diventare corere serve più movimento più energie serve e poi dicono non ti devi preoccupare per quella situazione che ti ti manda quello che ti fa perdere il controllo che abbiamo visto all'inizio che ci sarà una situazione che ti ti manda un po' ti squilibra non ti devi preoccupare stai serena fidati di te stessa perché la situazione si risolverà si risolverà in migliori modi tutto si metterà a posto non devi prendere troppo sul serio devi essere più furba mi hanno detto per intuire intuire diavolo di nuovo intuire dove il pericolo intuire dove la trappola stai attenta su quello che dici tu e stai attento a quello che dicono a te quindi un consiglio parlare meno e ascoltare di più quello che dicono a te e analizzare bene quello che ti dicono e soprattutto quello che ti dice un uomo devi essere più furbo non ti fidare troppo delle parole e poi smette di preoccuparsi di questa situazione perché la situazione si risolverà voglio chiedere tu farai qualcosa devi fare qualcosa per risolvere o no tu dovrai aspettare il momento giusto no no qualcuno risolverà per te tu dovrai aspettare il momento giusto capirai insomma non devi fare niente allora il consiglio adesso questo a cosa deve essere attenta consiglio cantare ballare qua chiarissimo devi fare quello che ti fa piacere devi dedicare più tempo a quello che ti piace veramente quello che ti fa sentire felice qua questo fante di copie e sei di bastone sembra che lei ha fatto un qualcosa non lo so ha fatto un disegno bello e ha fatto vedere questo disegno e tutti applaudiscono brava ha fatto un video come faccio io e tutti dicono oh bravo bello video venire oppure non so quello che tu fai hai cucinato qualcosa buono hai fatto mangiare assaggiare hai pubblicato la foto tutti guamma me che bello fai qualcosa che ti fa piacere e che possono apprezzare anche le altre solo questo consiglio e niente ragazzi io ho finito questa stesa raccontate come vi siete trovate mettete like e io fermo e noi andiamo alla seconda variante andiamo avanti variante numero 2 così la pietra mettiamo qua mazzo iniziamo pensa a te stessa puoi pensare anche a una situazione che per te è importante puoi pronunciare il tuo nome insomma bisogna fissare tua energia ora mentre mi ischio 2 5 e iniziamo 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 subito inizia una perdita subito mi sta venendo una perdita dolorosa perdita tristezza depressione malinconia ma cosa è legato a una situazione che è è bloccata comunque questa perdita non è una cosa che ti succederà secondo me sta già succedendo che sei già triste c'è una situazione situazione che per te è una situazione triste per quale tutti stai preoccupando che tu devi risolvere vuoi risolvere sta aspettando risolvere ma in questo momento non ce la fai si dice di spari qualcuno sta male o tu stai male ecco arriva arriva la chance arriva il bigliettino la lettera qualcosa arriva la lettera arriverà arriverà una notizia riguardo questa situazione che ti pesa qua venuto un uomo probabilmente stai male per colpa di un uomo stai male e questo non comunque sia non lo so per cosa stai male però mi arriva una notizia e c'è questo uomo questo uomo che o lui ti darà notizie oppure lui ti aiuterà a risolvere sì guardate quanti soldi o mamma ti porterà proprio grandi chance ti darà tanto questo uomo ti aiuterà tanto ti aiuterà a risolvere la situazione che ti preoccupa tanto qui può essere di tutto può essere problemi di salute tutti preoccupi non lo so se stai male adesso quindi devo dire io diverse variante se il problema di salute ti preoccupi ci sarà un uomo che ti aiuterà si può essere che tu dovrai pagarli però lui ti aiuterà a risolvere ti aiuterà a chiarire i dubbi se parliamo di una situazione non di lavoro non di salute perché anche di lavoro potrebbe essere può essere anche un uomo se tu hai questo uomo che lui ti darà qualcosa che ti aiuterà a risolvere questo tuo problema sì è lì arriverà la felicità sarai felice contenta finalmente meno male bene che finisce bene però comunque tu ti senti sola non ce l'hai appoggio sembra che tu ti senti abbandonato un po' non c'è appoggio non c'è una persona che ti sta accanto sempre ti aiuta sempre c'è se solo come un aiuto in quel momento ecco guarda e pensieri tristi variante numero due tanta energia negativa vedo ragazzi cosa succede perché pensieri tristi allora devo prendere osso vediamo cosa succede perché questa situazione triste vediamo un po cosa succede perché succedono queste cose alla mia ragazza guida controllo per qualcuno qui può essere una storia segreta e tutti senti triste così perché o persona che tu ami sta con un'altra oppure tu sei un'ombra segreta tu sei segreto o tu da lui nasconde il tuo amore insomma questa situazione ti porta la tristezza dentro il cuore e di conseguenza si attivano tutte energie negativi quindi cosa si fa per evitare tutto questo passato pulire passato guardati c'è ci sono lacrime non pianti ci sono emozioni come io dico non digeriti emozioni non digeriti che poi si vedono sull'organismo sul corpo su malessere ma tu comunque continui guardati quasi tutti specchi sono rotti ma questa persona continua a fingere che tutto a posto ma non a posto non a posto tu hai bisogno dell'aiuto e ti continua a resistere e non chiede aiuto molto spesso serve chiedere aiuto molto spesso bisogna imparare a chiedere aiuto ci sono le persone come me che non hanno non sanno chiedere bisogna imparare non importa che situazione bisogna chiedere aiuto e qui parliamo un qualcosa che tu porti avanti un un passato triste che tu porti addosso e di conseguenza può essere che qui tu ti sei ammalata fisicamente per un qualcosa non digerito in passato oppure se non parliamo di proprio fisico malattia parliamo di energia malata comunque sia questa malattia energia malata poi con il tempo può trasformare in malattia vera quindi non voglio far paura a nessuno ragazzi ascoltati quindi per evitare questo bisogna curare quello che ti fa male dentro e tu sta ignorando perché tu resisti può essere che sei già abituata al dalore abituata a stringere denti soffrire sei abituata quindi carte ditemi cosa deve fare ragazza ballare sotto la pioggia imparare a stare bene con quello che c'è guardate invece di pensare al passato invece di preoccupare per il futuro imparati a godere quello che c'è adesso e ora io vi dirò la frase brutta ma io la dico sempre ricordati che può essere sempre peggio non so a me mi aiuta questa frase ma non ti dico che ti succederà qualcosa di peggio ti sto dicendo che se ricordiamo che può essere peggio di oggi ringraziamo almeno godere e ringraziare per quello che ce l'abbiamo anche se c'è qualcosa che non va alla fine ora non so come dire alla fine tu ce l'hai due orecchie per sentirmi ce l'hai un telefono una tv non so da dove mi guardi per guardare no ce l'hai un tetto ce l'hai internet se tu mi stai ascoltando vuol dire che non stai tanto male cioè sei viva no e ora poi continuate voi perché non lo so non posso dire c'hai due gambe due mani magari qualcuno non ce l'ha quindi io mi fermo qui goditi impara a godere quello che hai adesso invece di pensare a triste passato triste futuro con tutti metti in comparazione competizione con qualcuno questo può farti male qui questo papessa questo uomo impegnato può essere può essere che tu stai guardando un uomo impegnato sei fissata pensi a lui pensi a che lui a un'altra tim e ti senti male oppure tutti metti in comparazione tra quella che si è stata prima e quella che sei ora e non ti senti abbastanza perché ti sembra che tu prima eri meglio adesso sei peggio tutti questi cosi bisogna cancellare perché ti stai portando in male e può essere peggio questo ecco una carta di osso il dio questo vediamo di io cosa voglio dire il dio sole guardare il dio ti vuole bene ragazzi che ora inizio con dio con far ridere come cantano nelle chiese dio ti vuole bene ma questo che mi dicono carte il creatore ti vuole bene ti ama ti vede sa cosa tu può resistere dove tu può resistere e dove no lui sa quale lezioni d'arte perché ti vuole proprio bene ti da queste lezioni per imparare perché vi ripeto io mi sono sto mi sto molto interessando a diversi cose spirituali guardo guru russi guru di yoga di kira che non so come si dice in italiano di yoga di tanti gurri guru e io sto imparando con loro tanti cose e quello che volevo dire mi è andata via adesso tornate voi voi fai no non devo dire perché non ritorna si sto guardando guru e poi cosa volevo dire e qui buco immaginate mi hanno cancellato quello che dovevo dire ora ricorderò un attimo quello che devo dire dirò ecco e sta insegnando questi guru stanno insegnando che se noi non impariamo le lezioni per bene che ti danno si ripetono queste lezioni ma il creatore vorrei vuole risparmiare la nostra anima non vuole dare tanto dolore vuole dare il minimo per farti imparare però se sei tosta e non impari e continui continuo farti male da sola dopo correatore per salvare a te la tua anima almeno da brutta elezione e io questo dico per farvi ricordare non per farvi paura il mio obiettivo non è farvi paura spaventarvi o farvi attirare energie negativi ma dare una svegliata ecco perché energie troppo più tristi ma più che altro queste triste energie tu stai vivendo perché tu li permetti sono nella tua testa bisogna svegliare questo pessimismo si sente in questa stesa e il creatore dice io ti voglio bene io ti sto dando questi piccoli ostacoli perché ti vuole risparmiare da brutti ecco dovevo dire andiamo avanti mamma mia come belle queste due carte guardate il sole con la conosco bellissimo avanti andiamo io potrei da tanti youtuber ci sono che raccontano famobili con storie per programmare a tirare energie positivi non so se io russa una donna guardavo che raccontava troppi cose belle 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 un periodo di vita mi ha aiutato anche mi aiuta rato non in passire perché ho avuto un brutto periodo però guardare a lungo le cose solo positivo e dove tu tiri la carta di sette di spade carta di ladro che non può essere mai positiva ma riusciva lei a interpretare in un altro modo comunque positivo e poi guardare a lungo questi video così ti da fanno danni alla fine io mi sono permessa a trattare molto male per colpo di questi video perché ho smesso di credere il mio intuito il mio dono ascoltava questa signora e questo era ancora quando non sapevo niente di interattiva era una cosa che ero appena entrato nel mondo di interattivi ok andiamo avanti quindi io non voglio raccontare le cose positive io voglio che vostre vite migliorano qualcosa che arriva dritti guardiamo le fante arriva ti arriverà un'offerta un'offerta un una proposta un'offerta non so che arriva questo pentacolo che ti aiuterà a uscire dalla situazione di tristezza e dolore che già da parecchio tempo stai vivendo ma tu non saprai o a destra a sinistra o indietro avanti non saprai stare a un bivio non saprai cosa fare dove andare saprai che così come adesso non ti senti bene però non sai allora dove vado allora che faccio e quindi eccolo e quindi niente sembra che ti arriverà una notizia dove ti diranno non c'è niente da fare sembra che tu aspettavi un'ultima conferma che in quale ti dico tu capisci che hanno inutile che io sto qui aspetto miracolo resisto alla fine qui tutto perso non c'è niente da fare sì non è una cosa bella tre di spade non ti sentirai bene però vedi sceglierai te stessa sceglierai amare te stessa c'è una situazione forse tu stai aspettando una persona che non ti sceglie non lo so perché sembra molto simile l'energia a una donna che sta male perché un uomo non non la sceglie le aspetta 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 che lo ritorno o che lui la sceglie o qualcosa così alla fine lei ha questa conferma no non c'è niente da fare alle due finita perso sì mi fa male ma io devo essere felice basta oppure non senza nessun uomo c'è una situazione dove tu non ti senti felice però comunque nutri la speranza che continuo resistere rimanere in quel posto in quel posto infelice triste per te dove tu ti senti sola non amata sola alla fine tu dici no nulla non c'è niente da fare io vado io vado perché devo essere felice e sembra che tu trovi con chi essere felice qua guardate sei tu tre di coppia tu che troverai un modo per farti gioia per farti ridere scherzare con qualcuno no e questo divertire con queste persone ti darà la forza ti darà la forza per un nuovo inizio a me mi sembra che tu riuscirai a fregare qualcuno ma fregare nel senso che tu tiri fuori le armi che magari anche non sapevi di avere e questi armi ti aiuteranno a fregare qualcuno fregare a qualcuno tra le virgolette perché alle tue spalle rimarrà un caos un casino vedete qua donne si picchiano qualcuno si piccherà ma tu riuscirai a tirare fuori qualcosa in te che ti che ti aiuterà come mi vien da dire a fregare la morte fregare una situazione dove tu non ti senti felice non ti senti libera dove tu sei incastrata comunque ci ti aspetta una partita una scommessa una partita a scacchi comunque dovrai rischiare ci vorrà un rischio da te dovrai per raggiungere a massima felicità dovrai rischiare fare qualcosa come in queste carte due di bastone loro giocano non si sa come andrà a finire la partita chi è più furbo vincerà e sembra che a te proprio queste qualità servono ecco la vincita sicuramente ci sarà uè tettino chiudiamo tettino e qui tettino io non so cosa succederà qua ma io vedo che qui tu sarai felice in amore tu dovrai rischiare e vinci felicità in amore coppia non sei sola sei felice in amore però dovrai rischiare e anche boh non lo so cosa tu fa qua dovrai fare ma io vedo che qui saranno tante discussioni non so per colpa tua inizieranno a litigare le persone ci sarà un casino qua ecco guardate i serpenti nemici mamma mia dove sei entrata tu guardate tetti dove sei entrata no sei uscita tu sei entrata in un nido di vipere velenose non è che sto inventando guardate dappertutto queste vipere questi serpenti e tu riuscirai a tirare fuori anche le qualità come difenderti riuscirai e uscire da questo nido di vipere in quale tu eri entrata ecco e ti serve a uscire perché non va bene per te rimanere in questo nido che sto vedendo nido di vipere va bene andiamo vediamo cosa ti aspetta al lavoro vediamo qualcosa bello il lavoro anche in lavoro fare qualcuno vipere mamma mia non è per tutto vipere ma cosa fai al lavoro guardate al lavoro concorrenti rivali si picchiano qua si combattono per il trono ma il trono nelle tue mani stai tranquilla non ti devono fregare guardate la forza sei venuta sei venuto a te sul trono con la corona in testa e stai accarezzando leone la giustizia dalla parte tua stai tranquilla nessuno sa meglio di te nessuno sa fare meglio di te tu non devi avere paura dei concorrenti di queste donne che si picchiano e si ammazzano parlando di lavoro ragazzi guardate tutto bene qui serve una cosa serve il cambio parlando di lavoro tu devi cambiare qualcosa cambiare città cambiare area magari provare di spostare oppure cercare di cambiare area posto non so cambiare come ti comporta il lavoro quello che fai ora se parliamo di mio lavoro cambiare contenuti per esempio tu cambiare qualcosa al lavoro dipende che lavoro fai anche cambiare piccole abitudini parlando di lavoro ti possono aiutare cambiare piccole abitudini questo mazzo sta parlando molto bene devo lavorare pure spesso con questo mazzo sfera sentimentale vivere anche lì sfera sentimentale 3 di coppe c'è un uomo che ama tanto la libertà o uomini o attiri uomini che amano la libertà e divertire e basta ecco cavaliere di coppe 5 sì tipo una specie di casa nuova non lo so se ce l'hai tu nella tua vita un uomo che mette una contro altra mette le donne una contro altra che donne si ammazzano per lui oppure tu nella tua energia ce l'hai uomini che a un'andato raccontato la serenata a un'altra andata raccontata la serenata insomma un uomo che non si lega a nessuna ma canta delle canzoncine quindi forse tu lo sapevi già se non lo sapevi oh che posso fare mi dispiace vedo questa energia ragazzi ecco qua brava persona giustizia onesta persona ce l'abbiamo un'altra persona onesta giusta che sa comportare non lo so se tu vuoi questa persona giusta fedele apri la porta apri la porta a questa persona c'è una persona che vuole entrare deve aprire e quella persona è onesta e sta aspettando quando tu apri non so che ti stanno vai a vedere la porta qualcuno aspetta che tu apri però quell'altra persona è brava è buona per bene un imperatore un imperatore un imperatore può essere un imperatore divorziato o che sta per divorziare un imperatore che sarà pronto non per tutti non per tutti questo divorziato perché ragazzi è un interativo devo aggiungere una persona che sarà pronta cambiare la sua vita per te e cosa ti potrà dare bambini sei di coppia ti potrà dare qualcosa di bello tenero innocente come un amicicizia come un aiuto un aiuto ti darà soldi per bambini ti aiuterà come un amico a risolvere una situazione dove tu ti senti preoccupata ecco perché ti vuole tanto bene bene io spero che non mi bloccano con questi tettini avevo dimenticato che in questo in questo mazzo ci sono tettini vediamo a cosa deve essere attenta a cosa deve stare attenta a un uomo deve stare attenta un uomo con la spada guardate un uomo bipolare è una la stessa persona o qua due persone diavolo ho tirato è la stessa persona bipolare c'è un uomo che cambia da così a così un uomo molto furbo un uomo che sa sa fare con le donne molto intelligente molto furbo a lui devi stare attenta perché perché 3d copie perché qui ci sono più donne tu devi stare attenta perché lui va a ballare con altri e tu lo stai aspettando guarda e tu aspetti da lui amore e se è imprigionata aspetti lui e lui va lì a ballare era fante fa pezza un attimo tu devi sapere qualcosa tu devi scoprire la verità c'è una verità che ti ha nascosta che tu non lo sai e per colpo di questa non verità tu ti senti non ti senti libera ti senti in appeso non puoi andare avanti la verità imperatrice la verità riguarda una donna molto furba può essere che questo uomo è impegnato con un'imperatrice lei è molto furba e c'è la verità che tu devi sapere e lei qualcosa sta facendo alla tua schiena alle tue spalle oppure questa donna è la sua mamma insomma dalla parte di questo uomo c'è una donna e questa donna è furba cattiva c'è una verità che è nascosta da te perché lei sta facendo qualcosa di sporco vedete qua la volpe ha rubato la gallina ti è stata rubata qualcosa come un tradimento dalla parte sua non lo so chi è questa donna prendete voi voi dovete mentre parlo intuire di che donna parlo di chi è questa donna può essere che tu proprio vedrai la faccia di questa donna mentre io parlo e quindi cosa devi fare copriti questi tetti mi dicono che tu sei bella e il tuo amore è bello e comunque questa bella farfava arriverà a te un po' di pazienza quello che è quello che tu che è quello che è tuo rimarrà con te non devi avere paura di questi vipereli che ci sono tanti sulla tua lingua stessa la stella tu continua prosegui verso i tuoi sogni e basta non ti fermare e un altro consiglio per te ecco tu devi essere la galina o la volpe consiglio orso venuto e volpe questo è un uomo e questo è il volpe è quella donna che disturba tutto ecco amanti consiglio tutti nudi copriteli e consiglio ecco la prigione esce dalla prigione muoviti ma la lettera manda la lettera puoi mandare la lettera a questa persona se tu hai capito di chi parlo questo uomo sta vicino a una vipera cattiva a una volpe qua furba e qui serve da te una lettera ma la lettera deve essere intelligente puoi parlare di soldi di lavoro di denaro di cose materiali non cose emozionali non di amore manda la lettera e il risultato sarà perfetto per te io ho finito ragazzi raccontate come vi siete trovati mettete like io vi saluto ciao ciao ciao